Buonasera mister, aveva detto alla vigilia tenere alta l'attenzione perché era una gara insidiosa, direi che si può definire soddisfatto per com'è andata. Sì, anche se con un avvio della partita un po' timido, però poi i ragazzi si sono sciolti, sono stati bravi e fortunati a trovare la via del gol su un piazzato, e quindi quel gol lì ci ha spianato un po' la strada, ci ha fatto rendere un po' più di fiducia e poi i ragazzi hanno mantenuto l'attenzione così come gli avevo chiesto fino alla fine, portando a casa un risultato importante, rotondo e meritato per quanto espresso nell'arco dei 95 minuti, una prestazione che ci soddisfa. E' chiaro che si può ancora fare meglio e migliorare nelle situazioni, nelle partite che si sviluppano all'interno della partita stessa. Però dobbiamo essere contenti per quanto fatto, per quanto prodotto oggi e soprattutto per il risultato. Ecco, mister, da sottolineare al teatro del risultato anche la disponibilità di questi ragazzi, lei lo ha sempre detto, Sgarbi ha giocato praticamente quinto a destra, Ricciardi è scalato in difesa, per non parlare di Armellino che già da tempo sta giocando difensore centrale, è un avellino dal grande cuore, un grande gruppo, compatto dal grande spirito. Sì, sono d'accordissimo perché l'ho sempre detto, sin dal primo giorno, questi ragazzi mi hanno sempre dato una disponibilità importante, una disponibilità che non sempre si riesce a trovare e questo mi agevola, è nel lavoro, è nelle scelte, in tutte le cose che può creare e trovare un allenatore. E' chiaro che fin quando loro si mettono nella testa e si convincono che possono sempre fare meglio e possono crescere, questa squadra ha ancora molti margini di miglioramento. L'ultima missa poi la liberiamo. I diffusi da casa ci dicevano dal 1976, poi chiaramente approfondiremo, nel professionismo l'Avellino non vinceva senza subire gol con un 4-0, un 5-0, dopo la vittoria, dopo 75 anni in quel di Catania, insomma è presto però fa sicuramente piacere battere anche alcuni record, piccoli record. Sì, è chiaro che i tifosi destano particolare attenzione a queste situazioni, a noi fa piacere se loro sono contenti. Noi è chiaro che dobbiamo mantenere l'attenzione su quello che è il nostro percorso, di volta in volta, di gara in gara, e quindi da domani ci proietteremo sicuramente a quella che sarà la sfida di domenica contro Giuliano in casa. Grazie mille mister.